Eeeh what's up a tutti c'erano e benvenuti da giocare in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovissimo video Ed eccoci qua ritornati dopo aver vissuto altri ricordi la scorsa volta ragazzi aver scoperto diverse cose Il fatto che Colin avesse trovato un istruttore di volo bla 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 Fatto sta che eccoci qua adesso dobbiamo trovare 3 collegamenti mnemonici Attenzione che qui c'è fire ragazzi eh Eeeh volevo dirti Che c'è? Sai penso che per oggi passo Sono le tue prime prove con loro giusto? Sei già abbastanza nervoso così? Eeeh non sono nervoso E anche se lo fossi Beh la tua presenza mi sarebbe d'aiuto Immagino ma Non posso starti sempre attorno sai E comunque sia Senza mi intorno riuscirei a concentrarti meglio Ehi ti ricordi che dopo la scuola mi raccontavi sempre della tua giornata? Perché non vai da solo e mi racconti tutto dopo le prove? Ok allora è deciso Ciao Andrà tutto bene Wow Che tipa stramba Ok abbiamo ricevuto la nota su ragazza stramba ragazzi Che dice qualcuno ha qualche rotella fuori posto addirittura giusto per non so essersi buttata in mezzarucce spuglio così totalmente a caso E ci ricordiamo che il centro gravitazionale non mi ricordo se era tipo qua o qua forse Comunque ci stiamo avvicinando sempre di più Per cui ti ridi di un perdere tempo ragazzi perché io sono troppo 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 curiosa di vedere cosa diavolo è successo dopo Vediamo qua Continueremo a seguirlo ovviamente non ce lo facciamo spuggire Non capisco perché c'è questa musica strana di sottofondo ragazzi è veramente molto inquietante Qua c'è Colin Oh madonna Ehi le prove stanno per iniziare forza Lui col suo diario come sempre ragazzi eh Un paio di pagine bianche Ah ok qua è per andarci a mettere i nostri collegamenti mnemonici Ce ne mancano ancora due entriamo in sala prove Cosa c'è che non va Colin Il posto è questo E Sofia Uff non riesco a credere di essere in ritardo Era Sofia Immagino di sì Ah 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 attenzione Colin e Sofia porca miseria si sono incontrati alle prove della banda della comunità ragazzi Ok stiamo scoprendo sempre di più Quindi quando Colin ha conosciuto Sofia Comunque Cioè Bazzicava ancora bonfire Ok basta Basta Fermi tutti Qualcosa non andava intorno alla battuta 36 Da qualche parte alla mia destra Da qualcuno nella sezione dei violoncelli Qualcuno seduto in seconda fila verso il davanti Colin giusto? Penso che stessi andando un po' troppo veloce Fai più attenzione Lo farò D'accordo riprendiamo dalla battuta 35 Verso la solo Pronti? Scusate ragazzi ma sta musica è troppo bella Beh almeno ha funzionato Quasi funzionato vorrei dire O non saremo qui Possiamo andare anche da Sofia ma non credo che succederà qualcosa Tutti sembrano più fighi sotto un riflettore metaforico Beh effettivamente Va bene ragazzi Direi che possiamo andare ad attivare a preparare perlomeno il prossimo ricordo Cosa diavolo sarà mai successo Quello che vi dicevo Quando quindi a quanto pare ha incontrato Sofia C'era ancora faia nella sua vita Per cui oddio io Spero veramente non sia successo niente di Troppo doloroso Perché già soppro solo all'idea Per cui prepariamo anche questo ricordo Ok dobbiamo costruire il libro Attenzione ragazzi Perché qua le cose cominciano a farsi complicate Ok ce ne manca ancora metà Via su via Se faccio cosa? Ok yeah Pronti ragazzi per attivare Anche questo prossimo ricordo Andiamo E Sofia ragazzi eh Oddio ci avviciniamo sempre di più Oddio Benissimo Ho finito Anch'io Vediamo cos'hai Cos'è quello? Ho fatto del mio meglio Già un appuntamento Rapido il nostro amico Beh stiamo ancora saltellando Probabilmente è passato ora il tempo Ok quindi Cioè si sono dati un appuntamento Bello Un rapido schizzo a madida Bellissimo Golins È meraviglioso Cielo mi chiedo da chi abbia imparato A disegnare così E quello suo? Ah Che bello Ok Due collegamenti mnemonici Ricevuti Per cui Continuiamo a guardarci qua intorno Troviamo i due che ci mancano Ragazzi Proviamo ad andare di qua Ok Cosa c'è? Oh mio dio Che c'è? Che fai? Oh 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 Neil Seguila Che succede? È spaccato tutto anche qua Cosa c'è? Meduse Ah Ma va a cagare Mi ha fatto prendere un colpo Eva Ti senti bene? Ce ne sono tantissime Beh Mi fa piacere che tu abbia altri interessi Oltre al giardinaggio Ok Le piacciono le meduse Davvero Vabbè Tu resta a guardare le meduse Io Seguo i ricordi Beh Credo che il pianoforte Mi sia sempre piaciuto Ma Quando ero piccolo Avevo un insegnante Di pianoforte Ogni volta che suonavo Mi faceva sentire La peggior pianista del mondo Allora era stronza Poteva fare insegnante Per un po' Ho smesso di andarci Ho smesso di suonare La mia autostima Doveva essere davvero scarsa Perché mi ha davvero segnata E ogni volta che dubitavo Di me stessa Mi tornavano in mente Le sue parole Un giorno ne ho avuto abbastanza E mi sono detta Prima o poi Diventerò una concertista Ma così non hai lasciato Che lei decidesse Cosa fare della tua vita Beh Suppongo di avere una visione Un po' strana delle cose Per me Non importa molto Quale percorso scelgo A patto di trarne il massimo Questa vita è così breve E non riusciremo mai A fare tutto quello che vogliamo Non importa ciò che facciamo Ci saranno sempre altre cose Da provare Altre stradere a seguire Quindi Alla fine Credo che l'importante Sia essere soddisfatta Di quello che ho fatto Scusa Sto parlando troppo Cambiamo discorso E tu? Cosa ti hai spinto A diventare un pilota? Io? Volevo vedere tanti posti Tutto qua? Molto tempo fa Una persona a me cara È andata molto lontana Mi sarebbe Piaciuto rivederla Niente di importante Lassù Non saprei Stavo fissando gli squali Neil Ok Chiamami quando siamo pronti ad avanzare Ok Ma se è medusone Se ti acchiappano quelle È la fine Allora Dove diavolo devo andare Per trovare L'ultimo collegamento mnemonico Attenzione Attenzione Ti occupi tu di questo ricordo Per favore Lasciami stare per un po' Certo Va bene Ti lascio Il tuo spazio Eva Stai assolutamente tranquilla Io troverò L'ultimo collegamento mnemonico Allora L'unica cosa ci rimane da fare Ragazzi È andare Qua a destra Continuo ragazzi A dire che le musiche Sono una cosa Meravigliosa Ehi Dove sta andando Eh Wow Per essere un cefalopoda È proprio coccoloso In realtà Fa un po' Solletico Ah No Poverino Ah minchia Pure per questo È rimpianto Ma dai Colin 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 ha preso Una bella inchiostrata In faccia Il suo primo appuntamento E vabbè Dai Poco importa Lei ha sorriso Cioè Ha riso Però Sti cacchi Ma perché L'hanno messo In questa vasca Non lo so Perché Fatto stai Dobbiamo trovare adesso Per preparare Il prossimo ricordo Ragazzi Comunque Colin Secondo me Ragazzi Si è fatto A meno che Per l'amore del cielo La situazione Non fosse importante Si è fatto Troppi problemi Per cose Un po' Stupide Cioè Tipo questa Stava addirittura Avere il rimpianto Di aver ricevuto All'inchiostrada In faccia Al primo appuntamento Ma che fa È stata una cosa simpatica Mica perché Lei se l'è presa In qualche modo Ah ok Perfetto È l'aeroplanino Di carta Ragazzi Come sempre Mettiamoci tutti I collegamenti Mnemonici E prepariamo E prepariamo E prepariamo anche Questo ricordo Oh my god L'aeroplanino Di carta Come diavolo Posso fare Ok Questa non posso Muoverle Come dovrei Fare Allora ragazzi Mi dovete Nel attimo di tempo Perché non ci sto a capire Molto Sinceramente Ok Così Oh Perfetto Ah Inoltre sono un po' Rognosetti Sti ricordi Da preparare Ma Andiamo ragazzi Fierissimi Ad attivare Il prossimo ricordo Uff Ehi Ora siamo pronti An'andarcene Vai avanti Allora Ti raggiungo subito Non ci separiamo Eva Che queste cose Non vanno bene Se poi dovesse Succedere qualcosa Non ci ritroviamo Un casino Ok Certo che Te la stai prendendo Comoda Ehi Nessuno Mi butterà fuori Meno male Che ho finito Le mie ore in tempo Eh Hai fatto bene Il mondo Alla fuori È un'altra cosa Pronto ad andare Sì Un attimo È finito con la tua fase meduse Non è una fase Comunque sì Cosa sta succedendo qui Non ne sono ancora certo Ma Questo luogo Sembra proprio abbandonato Interessante E voglia di disegnare Un aereo Tanto non verrà nessuno A vederlo What the fuck Che sta succedendo qui Ha detto che il luogo Sembra abbandonato E perché mai Ah è qua Fai Aspettate Andiamo prima di qua Ragazzi Che diavolo sarà Successo qui Non lo so È strano Vedere questi Scaffali vuoti Eh Tutto questo posto Lo è Proviamo ad andare Qua sotto Vediamo un po' Possiamo uscire Possiamo uscire Ah richiede uno Per procedere Ho capito Allora dobbiamo andare Di sopra ragazzi Aspetta Qua c'è un foglio Non l'avevo visto Avviso di chiusura Dell'aeroporto Ah Suppongo che tutto Abbia una fine Ok Abbiamo trovato anche La nota Della chiusura Dell'aeroporto Che dice L'aeroporto in cui Colin si è addestrato È stato chiuso Ah Anche questa cosa È triste Allora C'è un posto Dove magari Un po' Sei cresciuto No Dove Che ne so Ti sei formato Tutte ste robe qua Proviamo ad uscire Chiuso Ah La cosa sembra Farsi complicata Ragazzi Sarà chiusa anche questa Chiuso Ma che cavolo Ma che volete Che faccia E qua che cosa Posso fare Hai sempre avuto Un debole Per quel quadro Vero Chi è Ho chiesto Riconservartelo Un piccolo gesto Per ricordarti Di questo posto Grazie capo Ah sarebbe Il tipo mafioso Che in realtà Non è mafioso Ah ecco Ancora lui Ah no Avrei dovuto Fare la voce Hai fatto un buon lavoro Picciotto Lavoro onesto È rispettoso È rispettoso Oh È quasi Dimenticabile Il tuo aereo preferito È qui ancora Per un giorno Prima di essere Trasferito Se vuoi volarci Per un'ultima volta Offre La famiglia Ok Almeno abbiamo trovato Un collegamento Ragazzi Quindi adesso Possiamo uscire Da qua Dalla porta D'ingresso Ecco qua Eccoci qua Vediamo di cosa Hanno parlato Qui Quindi Qual è il prossimo passo Ora che l'aeroporto Ha chiuso Esatto Beh C'è il lavoro Come aviotrasportatore Di merci Per cui ho fatto domanda Sono andato Al colloquio L'altro giorno Penso di avere Buone probabilità Di essere preso Ho ancora molta strada Da fare Ma sarà utile Per accumulare Più ore di volo Wow Pensare che Sei davvero arrivato Fino a qui Sembra ieri Che stavamo Su quel balcone Grazie Per avermi dato La spinta Di cui avevo bisogno Comunque Felice Di averlo fatto Ehi Novità Con quella ragazza Dell'orchestra Ah Lei lo sa Sofia Bé Ci parliamo E Non lo so Potrei chiederle Di uscire Prossimamente Ma Beh Sei anche tu Come me la cavo Con questo genere Di cose Ti andrebbe Di darmi una mano Se lei è innamorata Di lui ragazzi Cioè Che strazio Oh Non credo Non credo Che ti sarei Molto utile Ma se vuoi un consiglio Ti direi di lavorare Sul renderti più interessante Bla bla Sì sì Ci sto ancora lavorando Ultimamente Non parliamo Più tanto Come una volta Sai Certe volte Anche se sono qui Tu Fai le tue cose Lo so Mi dispiace Che sono sempre occupato In senso positivo Però Giusto Mi sembra che tu abbia messo la testa a posto Io Ehi E' intenzione Di fare quel volo Che ti ho offerto il capo Barry ha detto Che c'è una striscia d'erba Vicino la collina Dove eravamo soliti andare Giusto Potresti fare Una prova d'atterraggio Magari Già Vieni anche tu Nota Strade separate Ragazzi Colline e fai Si sono allontanati Questa è una cosa Che Magari di solito Può succedere Quando si cresce Quindi questo è l'ibisco E probabilmente Potremmo preparare qui Ah non ci abbiamo ancora Il secondo Santo cielo Ma stanno spargendo Semi di ibisco Ovunque vadano Ok il punto è che Non possiamo preparare Il ricordo Perché Non abbiamo Il secondo collegamento Quindi secondo te Era proprio ottuso O semplicemente Non interessato È curioso come il semplice Desiderio di essere felice Si è risultato Così Complicato Infatti Di certo Ottimo lavoro Ora sembra un amorevole Joker Sì Abbiamo passato Il rassegno A quasi tutti I suoi ricordi Non è così Credo di sì Il vortice Dovrebbe essere Poco più avanti Ottimo Forse Forse ci tornerà utile Per arrivare Alla fronte Del suo desiderio Come se non lo sapessimo Già Eh? Vuole lei Ovviamente Deve esserci un motivo Se continua a saltar fuori Chiaramente Questo tipo Pensa ancora Al suo amore infantile E si chiede Come sarebbe andata La vuole Ma ha dei sani principi Quindi sa Di non poterla avere L'equazione È perfetta Per un triste Triste uomo Che ha bisogno Del nostro aiuto Per rimuovere il problema La radice Stai proponendo Di rimuoverla Beh Se lo facessimo Saresti tu l'esperta Ma in ogni caso Dobbiamo comunque Cambiare qualcosa A conti fatti Lei è comunque L'unica cosa Che potremmo cambiare Colli stesso ha detto Che dovremmo evitare Di cambiare le cose Che coinvolgono La sua famiglia Giusto? E in tutti questi ricordi Fai è l'unico Altro elemento Davvero ricorrente Non ha tutti i torti Ragazzi Suppongo tu abbia ragione Potremmo iniziare da lei E vedere dove ci porta la cosa Ma c'è ancora qualcosa Che non mi torna Ciao Ciao Che sia Sono io Roxy Sono qui Ah è arrivata Oh Come sta andando Là dentro? È stupendamente ovvio Invece Tu come stai? Hai portato le scartoffie? Sì Ho qui le scartoffie Ho portato anche Rob Cosa? Sai che non lo sopporto Guarda che ti sento Ciao Rob Ehi Comunque mi va di uscire Super veloci Per compilare i moduli Siamo un po' di fretta qui Forse dovremmo chiedere Di aiutarci con le carte Un'altra cosa Neil A proposito Dell'attrezzatura Penso di aver visto Sto uscendo Tieni i documenti pronti Aspetta Cosa? Conosci il protocollo Eva Colin è un nostro paziente Ora uno di noi Deve controllare i moduli Sì ma abbiamo già lasciato Che altri ci aiutassero E alla sede centrale Non è mai importato Forse doveva importare a noi Eva Forse doveva importare a noi Da quando sei uno Che segue il protocollo? Comunque Trova quell'ultimo collegamento Mnemonico Mentre non ci sono Ok? Non ci metterò molto E chiamami Quando siamo pronti Ad andare nel prossimo ricordo Non voglio perdermelo Ehi Ragazzi Allora Siamo vicini A scoprire Qual è il centro gravitazionale E mo' inizia l'atto 2 Non c'è più bisogno Che tu te ne vada Lei comunque Ha visto qualcosa di strano Se non sbaglio Nell'ufficio di Neil Quindi fammi capire Hai fatto pezzi L'intera macchina Perché il dipartimento Di manutenzione Fa schifo? Senti Era la soluzione Più facile Se l'avessi lasciato In mano alla compagnia Non sarebbe mai stato fatto Proprio come queste scartoffie Oh mio dio Mi sono appena accorto Che stai scrivendo E parlando allo stesso tempo È incredibile Spero di non averti fatto fare errori Mi dispiace un sacco Sai A volte nemmeno io Riesco a scapire Se sei sarcastica E vuol dire tanto Pensandoci bene Mi ricordi un po' Una persona dei ricordi Di questo paziente È strana È sempre in mezzo Proprio come te Davvero? Scommetto che mi sarebbe piaciuto Incontrarla Sono sicura di sì Purtroppo dovremmo fare qualcosa A riguardo A ogni modo BOOM Le scartoffie sono sistemate E firmate Grazie per aver portato i documenti Rox Vado a controllare Le condizioni di coli Ah Pensi di svignartela così? Potrei anche aver ingannato Eberrob Ma credevi di poter Prendere in giro Un altro tecnico? Ho fatto una diagnostica Veloce poco fa Sembra che tu Abbiamo fatto molto di più Che rimuovere lo stabilizzatore La macchina che stai usando qui Non è nemmeno la tua attrezzatura Sigmund ufficiale Vero? Visto che la tua macchina registrata È rimasta la sede centrale Nel tuo ufficio Non so cosa stai combinando Ma lo scoprirò Ehi Rob Com'è la stazione? È tutto a posto Stavo parlando col medico e... Cos'è questa atmosfera da omicidio? Oh Rob Stai esagerando come sempre? No Chiaramente non sto esagerando come sempre Va tutto bene qui dentro? Ah meraviglia Nel stava proprio per tornare da Colin Esatto Torno da Colin Ragazzi What the fuck Che minchia ha fatto Neil Con la macchina? Ma scherziamo No 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 Non il libisco Il libro Le foto Ok Le foto che avevamo già visto Quindi niente Un'intera vita di ricordi E ci siamo a malapena E imbattuti in quelli piacevoli Ok vabbè Torniamo alla Colin E non perdiamo tempo ragazzi Perché Puzza tutto tantissimo eh Stabilire comunicazione Basta andiamo Ehi Eva Riesci a sentirmi? Neil? Sì come sta andando lì? Sono ancora alla ricerca Dell'ultimo collegamento mnemonico? Ancora? Ma ne mancava solo uno Già È solo che Non lo so Ho guardato ovunque Ma gli scanner rilevano Che c'è un altro qui da qualche parte Devo trovarlo Hai finito con le scartoffie? Beh devo solo Dannazione Dove sono le mie pillole? Neil? Spero di non averle lasciate di nuovo in macchina Ehi sei ancora lì? Scusa Non ho ancora concluso con le scartoffie No Quanto ci vuole Riempire e firmare una macchetta di moduli Sono quasi pronti Torno appena ho finito D'accordo Falla svelta Non dovrei metterci troppo ad andare e tornare dalla macchina Oddio ragazzi Pillole per che cosa? No ma quante cose Cioè ma quante robe stanno succedendo In questo gioco Tu hai troppe cose strane Sto Colin Sto Colin che non si sa il desiderio che vuole Chissà come la sta passando la moglie di Colin Ma che se ne importa? Non devo andare alla macchina Già di ritorno Devo solo occuparmi di un paio di cose Tornerò dentro presto Bene Parlare dei ricordi di Colin Non so se è il caso ragazzi Non lo so Non lo so No No Cioè non E gli aspetti Dottor Watts giusto So che è quello che ha visto lì dentro riservato Ma mi stavo chiedendo una cosa Avete scoperto perché Colin ha messo questo libro qui così? No In realtà quella era la mia domanda per lei L'ha avuto per tanti anni Eppure continuavo a sostituirne le pagine E ora non restano che tanti fogli di carta vuoti Se trovate qualcosa a proposito che mi riguarda Per favore Fatemelo sapere È la mia unica richiesta Lo terrò a mente Ok Direi che è il caso di andare alla macchina Neil Oh Gesù Io non Continuo a non capire cosa diavolo succede Continuo a non capire Succede di tutto Colin e Fire E le persone dentro i ricordi che ci spingono giù dai precipiti Cioè è tutto allucinante Ehi signore E potata Sapevo che sarebbe passato Oh ancora tu Grazie di nuovo a lei e la sua fidanzata per avermi aiutato con l'orsetto Ah non è proprio la mia Ma sì Nessun problema Sì grazie per l'aiuto Non avevo soldi per l'ennesimo sacchiotto di pezza Quella monellaccia Se la prende con la mia potata da anni Vorrei che qualcuno le desse una lezione E adesso che è una patata più piccola Sono davvero preoccupata per il futuro Lei Ha chiamato patata anche quest'altro figlio? Certo che no Non sia sciocco È solo un soprannome Il soprannome è Tubero Ah comunque Ho sentito che siete qui per il vecchio Colin Conosci Colin? Certo Una volta letteralmente riempito di botte amber per me Era la parola giusta ma No cara intendevi dire figurativamente Ah uffi Vabbè comunque l'altra settimana Colin mi ha dato il soprannato di succo di limone Da allora non l'ho più visto però Se lo vedi glielo puoi restituire Aspetta cosa? Succo di limone Per cosa? Per scrivere i messaggi come le spie no? È un inchiostro invisibile Ho già scritto due lettere segrete per Tubero Per quando saprà leggere Il vecchio Colin mi ha detto che non gli serviva più E perciò se volevo potevo usare tutto il barattolo Oh Una bella botta di fortuna Ok ragazzi abbiamo Allora potrebbe restituire il barattolo a Colin Beh credo che a Colin ormai non serva Direi che puoi tenertelo Wow grazie Allora scriverò una lettera a me stessa Ok patata Ora torniamo a casa Uffa va bene Il mio telefono Eba stai chiamando dalla macchina? Sì almeno questa funzione sembra privare i problemi Ehi senti credo di aver risolto l'enigma di quel libro di Colin con tutte le pagine bianche Non è importante Piuttosto mi serve che in questo momento tu faccia un paio di controlli Su cosa? Ciao Va tutto bene là dentro Hai trovato quell'ultimo collegamento mnemonico? No Hai un computer a portata di mano Potrei Bene Controlleresti gli archivi su faia Specialmente a proposito di eventuali incidenti aerei Credi sia rimasta vittima di un incidente aereo? Voglio solo escluderne la possibilità Ti mando il profilo che abbiamo estratto Ci sono abbastanza rati anche senza il cognome Fammi sapere quando avrai risultati Ok Buongiorno Ehi Rox sei ancora al portatile è giusto? Certo Ti ho appena inoltrato un profilo ti spiacerebbe cercarmi delle corrispondenze Certo e a te spiacerebbe dirmi cosa stai trafficando con quella macchina? Eh... Perfetto perfettino abbiamo un accordo ti richiamerò quando avrò dei risultati No allora cioè raga Che diavolo sta succedendo? Cioè stanno succedendo veramente tante cose Cioè Neil che non si capisce cosa ha fatto con la macchina Neil che non si sa cos'ha e sta cercando delle pillole E Eva che non riesce a trovare l'ultimo collegamento mnemonico E adesso che sospetta che fai si è riceduta in un incidente aereo Mi sto chiedendo se si tratti proprio di quell'ultimo volo che doveva fare Colin con l'aereo Oddio ragazzi Vabbè Io devo interrompere questo video Ma con l'amarezza nel cuore Perché c'ho like ragazzi a livelli che non vi potete manco immaginare Troppa curiosità di sapere dove sta andando a parare tutto questo Lo scopriremo la prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un bdos a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social I link per fare delle donazioni E il sito digital24.it Dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice